Subentro nei minuti finali Milan-Salernitana 1-1 fino a questo momento E permettetemi di dire che questo è un campionato di un livello indecoroso Cioè il Napoli capolista si trova a più 18 punti sulla seconda E non c'è una squadra che c'è il posto Champions assicurato Nemmeno i campioni d'Italia in carica, in questo caso il Milan Che pareggia anche oggi troppo altalenanti Tutte quante Lazio-Roma-Milan-Inter Cioè veramente qualcosa di vergognoso L'Atalanta stessa e il Milan ora vediamo se nei minuti finali riuscirà ad andarla a vincere Ma comunque punto importante per la Salernitana fuori casa San Siro davanti a 70.000 persone passa Complimenti solamente ai Granata 26 punti a più 7 Ma i Granata sono solamente il Toro? Scusate vi faccio questa domanda Dei pisciaglioli possiamo dire Allora Non abbiamo visto una bella prima frazione di gioco Ecco non è che è stata molto affascinante Anzi una partita abbastanza bloccata A ritmi alternati ma prevalentemente bassi E la sblocca Ciro al 46esimo minuto praticamente allo scoccare Del termine della prima frazione di gioco E che con un colpo di testa riesce a girarla Su calcio d'angolo Non può nulla Ochoa che oggi ha fatto veramente i miracoli Ed è 1-0 per i rossoneri che riescono a sbloccarla Ma non vi pensate neanche che le occasioni siano state più di tante In favore del Milan nel primo tempo Anzi Cioè comunque è stata una partita anche abbastanza Equilibra Diciamo che i padroni di casa ovviamente hanno fatto girare di più il pallone Ma la Salernitana fin da subito ha dimostrato di essere coraggiosa Proprio con la tiglia Andà Recupera palla Chiude ogni spazio Compatti Per provare poi a ripartire E quindi a far male alla retroguardia difensiva del Milan Ora Io non so se segnerà una delle due squadre Perché dobbiamo restare a vederci la partita Però ragazzi Questo è quanto ho visto Fino a questo momento Abbiamo visto una girata di Giroud che finisce di poco a lato Abbiamo visto qualche fiammata di Leao Che ha provato sulla fascia a ovviamente mettere in pericolo La retroguardia difensiva della Salernitana Ma non ci è riuscito più di tanto assolutamente Quindi ragazzi Sicuramente Potevamo aspettarci di più da questo Da questo primo tempo Dove comunque si Milan fa la partita Ma la Salernitana come detto Lotta per i suoi obiettivi E per le proprie capacità Quindi A fasi A fasi alterne È stata schiacciata magari dal Milan Però sempre con coraggio E sempre con dedizione Nel secondo tempo ragazzi Beh devo dire che comunque abbiamo visto sicuramente una partita diversa Abbiamo visto una partita dove ci sono state tantissime occasioni Al contrario del primo tempo dove le contiamo Sulle dita di una Di una sola mano ecco no E tra l'altro ragazzi Diciamo che non è Che parte molto bene a livello di spettacolo Primi 15 minuti dove il Milan gestisce Lo fa anche per bene Dopo il gol del vantaggio maturato Dopo Prima Poco prima del Del duplice fischio Milan che stava girando Tic e tic Tic e tic Con tranquillità Con tranquillità A cercare spazi Magari per chiudere La partita Partita salernitana Sempre attenta In fase difensiva Che non ha spinto Fin da subito Non è che voleva sporgersi Per poi magari subire gol in contropiede E quindi far chiudere lì La partita Anzi ragazzi Sono stati veramente molto compatti Organizzati Da gruppo Da gruppo importante E addirittura Da questo possesso Continuo del Milan Nasce l'azione del gol della salernitana Molto veloce Molto rapida Ma la palla messa dentro Ragazzi qualcosa di meraviglioso Bradaric è perfetto Sulla fascia Quest'oggi Cioè a me è piaciuto Personalmente In entrambe le fasi Sia quella difensiva Che quella offensiva E complimenti per l'assist A questo calciatore Per il gol di Bolao Iedia Che sul primo palo Fa un inserimento perfetto Ma ragazzi Manca Tomori Ma dove stava Tomori Cioè ma Potete lasciare Un giocatore così Così solo In mezzo all'area di rigore Tra l'altro Un giocatore anche importante Bola Iedia Di mostro Deve avere delle qualità Eccezze in questa stagione Ok Con la salernitana Stava facendo una buona andata E quindi perché lasciarlo solo Ma indipendentemente Dal fatto che sia Bola Iedia O che sia Cristiano Ronaldo Gli manca la marcatura Del difensore del Milan Gli manca ovviamente Appunto uno Che gli va di addossare Tutto 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 Solo Davanti al Portier Davanti a Magnan E non poteva assolutamente Sbagliare Quindi 1-0 In favore Della salernitana Ragazzi No perché 1-0 1-1 Ha pareggiato la partita Ecco no E Beh La salernitana Che comunque poi Si ricompatta Ok Perché da nulla Ha trovato questo gol E il Milan Comunque ci prova Prova a sporgersi nuovamente Con Benazer Che calcia alto Mi viene in mente Questa conclusione Ragazzi Un miracolo Clamoroso Di Osho Cioè Fategliene Una statua Superman Superman Osho È veramente Superman Cioè Sta risolvendo Tanti dei problemi Della salernitana Ogni tiro che gli arriva È sempre pronto Preparato Sulle uscite Un portiere Di una esperienza Tale Neanche le big A momenti Ce l'hanno Cioè io lo scambierei Tranquillamente Con il mio Rui Patricio Ma tralasciando Ciò Ha fatto una parata Incredibile Sul colpo di testa Di Ciro Che praticamente Ha fatto una spizzata Per Origi Che colpisce Di petto E però Trova La parata Clamorosa Di Osho Ha praticamente Un miracolo Calcio di rigore Annullato al Milan Perché comunque Benazerra Si era tuffato In area di ghiore Non che sia Assolutamente Non sto dicendo Questo Stimulazione Però comunque Il contatto Era al quanto Minimo Quindi calcio di rigore Non concesso Ai rossoneri Salernitana Che se la gioca Addirittura Con tre punte Ma ci rendiamo conto Con tre punte Se la gioca Questa partita Perché alla fine Bolaie di A Un pochino più arretrato Ma è pur sempre Un attaccante Che spinge molto Ok E che sa fare Un po' tutti i reparti Dell'attacco Con Bonazzoli Con Piontek Quindi comunque Complimenti per il coraggio Anche al tecnico Che ha schierato E che ha voluto Provare con questa tattica Ecco no Bucari i rossoneri E ragazzi A me non mi è piaciuta Tanta la gestione di Pioli È vero che comunque I cambi I giocatori che ha in panchina Sono quelli Dovevi mettere il grande Ibrahimovic O leader assoluto Però ragazzi La Salernitana Essendo una squadra Che comunque A livello difensivo Attacca molto alta C'è il senso pressing Veramente importante Aspiazzante Su tutti i giocatori Del Milan Del reparto offensivo Del terminale offensivo E quindi Ibrahimovic Non è un giocatore Di estrema Di profondità Ecco Intanto Rissa Rissa clamorosa Qui De Hernandez Sta succedendo il putiferio Possono scattare Di cartellini rossi Rissa In live A quanto importante E come vi dicevo Comunque Ibrahimovic Che entra in campo Ragazzi E che deve giocare Ovviamente Attaccare al difensore Non si può muovere Cioè l'hanno preparata Veramente bene tutti Ad attaccarlo Ok Non è che è stata Una mossa molto astuta Quella fatta da Pioli Lo stesso Luigi Non è un attaccante Di profondità Non è un attaccante Che ti va a tagliare le linee Non è un attaccante Che si inserisce E quindi la serenitana Non ha trovato difficoltà Sotto questo punto di vista Ok E complimenti Complimenti alla linea invenzione Perché a me è piaciuta Veramente tanto Perché comunque Non subire gol a San Siro Comunque prenderne solo uno È tanta roba Per la serenitana Bratari C'è Mazzocchi Pirola Geomber Gran bella partita Più quelli di ventrali Dalla panchina Lo stesso Lovato Che comunque si è fatto Valerio a livello fisico Cioè comunque abbiamo visto Una partita importante Ok La serenitana fisicamente Ha lottato e ha tenuto Contro questo Milan E quindi gli ha fatto Veramente tanto onore È un Milan che quindi Ora dovrà concentrarsi Per la Champions League Cioè comunque Straccomplimenti Per quanto Per quanto fatto Per il percorso Perché comunque Sono passati ai quarti di finale Eliminando il Tottenham E questa è veramente Un'impresa clamorosa È stata un'impresa clamorosa Però ragazzi Ora concentrazione al campionato Perché il quarto posto Non è assicurato Per nessuna squadra Quindi fatemi sapere la nostra Qua sotto con un commento Iscrivetevi al canale Ative la campanella Lasciate un bel like Seguidemi su tutti i social Che trovate Qua sotto Nella descrizione Il Milan pareggia Ragazzi Tutto ok Bolaiedia ragazzi Che mi fa veramente Impazzire Complimenti anche All'organizzazione Per il centrocampo Della Salernitana Che comunque ha giocato E ha lottato contro Voleo del Milan Ciao